I numeri della crisi in provincia, disoccupazione quasi al 10% e 93 imprese fallite in un anno. La prefettura cerca soluzioni mettendo tutti i soggetti interessati intorno a un tavolo. Paura sulla strada per l'asilo, un uomo armato di martello cerca di sequestrare un bimbo di 5 anni, salvato dalla prontezza della madre. Era un 53enne con disturbi mentali. Dopo l'Imu arriva la Tares. Quest'anno, invece di Tia e Tarsu, i cittadini pagheranno una nuova tassa, previsti aumenti di una quarantina di euro a famiglia. Inaugurata in fiera la 25esima edizione di Enada Primavera, il settore dell'automatico da divertimento risponde alle critiche su videoslot e premi in denaro. Sovrastimate le ludopatie, a mancare sono leggi e controlli. Si è aperto nel tardo pomeriggio il tavolo sulla crisi promosso dalla Prefettura di Rimini, aperto a pubblici amministratori e rappresentanti del mondo economico, sociale e sindacale riminese. Lo scopo è avviare un percorso comune per cercare nuove strade contro la crisi, un fenomeno concreto anche sul nostro territorio. Lo testimoniano i numeri impietosi. Nel 2012 il tasso di disoccupazione provinciale è arrivato al 9,8% più 1,7% in un anno, quello giovanile al 15,8% più 4%. La forza lavoro complessiva è di 146.050 persone e di queste 11.698 sono in cerca di occupazione, 5.000 invece gli scoraggiati che hanno abbandonato la speranza di trovare un lavoro. Oltre 9 milioni di ore per la cassa integrazione, con un'impennata di oltre il 30% rispetto al 2011. 93 le imprese dichiarate fallite, più 28%. Colpa del calo degli ordini, dell'aumento degli oneri fiscali, ma anche della difficoltà di accesso al credito che tocca il picco negativo. Nello scorso anno i prestiti bancari sono calati del 7,8%, il doppio del dato regionale. I prestiti alle imprese sono scesi addirittura dell'11,3, in regione meno 5,1. A rubinetti chiusi in particolare per le aziende del manifatturiero, meno 31,8% rispetto almeno 6,9% dell'Emilia Romagna. Aumentano in maniera esponenziale anche le sofferenze, più 4,2%, con un picco nel settore costruzioni, più 16,3%. Crescono però anche i depositi bancari, più 10,5% rispetto al più 9,9% regionale. Numeri che purtroppo spesso si trasformano in disagio sociale. Sono oltre 10.000 le persone che si sono rivolte ai centri d'ascolto Caritas e agli sportelli sociali dei comuni riminesi. 77.335 i pasti erogati dalla Caritas nel 2012 e centinaia agli interventi per alloggi di prima accoglienza. Proprio il settore abitativo, con i 1.450 sfratti richiesti lo scorso anno e i 301 eseguiti, è uno dei sintomi della situazione di grave difficoltà. E ad aprire i lavori del tavolo il prefetto Palomba che ha raccolto l'invito lanciato dal presidente di Confindustria di mettere proprio allo stesso tavolo tutte le realtà del territorio interessate a vario titolo dalla crisi. La particolarità rispetto ad altri momenti di confronto è stata la divisione in specifici gruppi di lavoro. In questo momento, se non c'è un momento di coesione istituzionale e sociale che vede attorno a un tavolo tutti gli attori principali della provincia perché ognuno ha un settore proprio ovviamente di competenza, non si arriva praticamente alla risoluzione dei problemi. Il tavolo ovviamente non vuole essere, perché non lo può essere, risolutivo di problemi di più ampia portata. Però può dare praticamente dei segnali e delle forme di intervento. Difatti abbiamo diviso poi dopo il tavolo, e questo proporremo oggi, in quattro gruppi di lavoro. Uno sull'accesso al credito, tema estremamente scottante. I prestiti scendono, le banche sono in difficoltà, sia i prestiti alle imprese che alle famiglie ovviamente. Un altro sulla sburocratizzazione. Si cercherà di trovare forme di intervento a normativa vigente. Questo ci tengo a dire, insomma, non possiamo ovviamente prevedere interventi normativi, non è nostra competenza, non è il momento storico. Un altro è sul settore sociale, come voi sapete, estremamente in crisi anche nella provincia di Rimini. Le forme di disagio sociale stanno aumentando, le statistiche della Caritas sono sicuramente non molto lusinghiere per la provincia. Il quarto e ultimo è il lavoro, che in effetti è la parte terminale di un processo che si sta bloccando. Ecco perché i quattro temi in sé sono concatenati. E restiamo in tema di crisi perché la situazione dello stabilimento Steel Mac SCM di Villa Verucchio, per il quale l'azienda ha annunciato un forte ridimensionamento col taglio di un centinaio di posti di lavoro, preoccupa l'amministrazione comunale e quella provinciale di Rimini. In una nota il presidente Vitali spiega come la vertenza rappresenta l'ennesima spia di un quadro provinciale messo progressivamente a rischio dall'incedere della crisi economica. Una crisi che nei primi due mesi e mezzo dell'anno ha coinvolto in procedure di cassa integrazione straordinaria ben 524 lavoratori rispetto ai 487 del 2012. 35 le crisi aziendali monitorate al momento dalla provincia, che per voce dello stesso Vitali si propone nella vertenza Steel Mac come mediatrice di un confronto per evitare gli esuberi. E intanto ieri i dipendenti dell'azienda di Villa Verucchio hanno protestato fuori dai cancelli dello stabilimento. Questa mattina Europeo Gabrielli della FIOMMA CGL è intervenuto alla nostra trasmissione Tempo Reale. Noi venerdì ci siamo incontrati perché giustamente in quello stabilimento vedevamo delle cose che non funzionavano, non andavano, per cui chiedere quali erano le prospettive di quella situazione, riferite a quella situazione. E l'azienda in quell'occasione ci ha detto del problema, ci ha detto che lavora in perdita e nelle anni 2011 avrebbe perso 2 milioni di euro, nell'anno 2012 ulteriore 3 milioni di euro. Allora noi abbiamo detto non riteniamo questo sia il tavolo, per cui urgentemente nella giornata di ieri abbiamo coinvolto i responsabili nazionali della nostra organizzazione sindacale e ieri è partita una richiesta ufficiale per approfondire e capire che cosa sta succedendo. Dal 2000 al 2007, vorrei ricordare, questo è stato un gruppo che ha guadagnato oltre i 220 milioni di euro. Quei lavoratori sentivano forza di quel gruppo. Dal 2009 ci sentiamo continuamente detti che siamo degli esuberi, siamo dei costi. Allora, 4 anni di casa integrazione, di solidarietà e in attesa, dando fiducia all'azienda, di poter ripartire e invece improvvisamente consentirsi nuovamente dire ma abbiamo dei problemi di costi, dobbiamo esternalizzare delle lavorazioni che per noi non sono più competitive e di conseguenza 100 di voi sono in esubera. Noi abbiamo in piedi attualmente fino al 6 settembre il contratto di solidarietà, per cui fino a quella data se non ci sono e mi auguro che non ci siano delle prese di posizioni unilaterale la situazione non dovrebbe avere cambiamenti particolari rispetto allo status quo. Il problema lo vedremo quando terminerà la solidarietà e se l'azienda in maniera unilaterale, perché c'è la fatica, che troveremo un accordo, si decide o vuole portare avanti un discorso di esubero per cui mobilità. Un episodio preoccupante è avvenuto questa mattina poco dopo le 8.30 davanti all'Italia in miniatura. Una donna stava accompagnando il bimbo di 5 anni all'asilo quando si è vista aprire la portiera da un uomo con in mano un fiore che ha cercato di prelevare il bambino. La prontezza di riflessi della mamma le ha consentito di chiudere la portiera e sottrarsi all'uomo facendo retromarcia. Questo si è poi allontanato a piedi. Gli agenti di una volante della polizia, chiamata dalla donna, l'hanno rintracciato poco dopo nei pressi di un campo. L'uomo, 53enne di origini foggiane ma residente a Milano, ha cercato di colpirli con un martello, dicendo frasi sconnesse, tra cui anche «sono il papà». Il martello, che brandiva lungo 26 centimetri, aveva incisa sopra la scritta «la legge in casa, sono io». Alla polizia è stata presentata la denuncia anche di un'altra persona, a cui l'uomo poco prima aveva tentato di rubare il cane. Il 53enne è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio all'ospedale di Rimini e i sanitari hanno scoperto che già in passato era stato curato per un disturbo affettivo bipolare. Nel 2008 era stato fermato con l'accusa di sequestro di persona e poi assolto perché incapace di intendere volere. Non ha usato armi e non si è neppure nascosto il volto il malvivente che questa mattina ha rapinato la filiale di Viale Marconi della banca di Rimini. Il colpo è avvenuto intorno alle 10.30 quando l'uomo, dopo aver minacciato verbalmente i due cassieri, si è fatto consegnare i 1.500 euro in cassa ed è fuggito a piedi nelle vie limitrofe. I carabinieri stanno visionando le immagini della videosorveglianza. La stessa banca era stata rapinata sia a gennaio che ad ottobre. Parliamo adesso di tasse. Potrebbe arrivare già ad aprile la Tares, il nuovo tributo su rifiuti e servizi che sostituisce TIA e Tarsu. Peserà sulle famiglie almeno 30-40 euro in più all'anno per colpa della componente della maggiorazione che ai comuni servirà per incrementare i servizi. Ma finalmente si darà anche addio all'applicazione IVA. Se ne è parlato questa mattina a Riccione. È già in vigore e doveva essere pagata a luglio, ma potrebbe battere cassa nelle tasche dei cittadini da aprile. Anche quello della Tares, la tassa su rifiuti, è un nodo che solo il nuovo governo potrà sciogliere. Sul nuovo tributo si è concentrata l'attenzione questa mattina dell'annuale convegno per gli amministratori locali organizzato a Riccione dalla Corit. Se la scadenza non è ancora certa, i conti di quanto costeranno in più i rifiuti rispetto a prima sono già stati fatti. La Tares in pratica contiene tre tributi, quello per i rifiuti, un tributo provinciale e una maggiorazione per migliorare i servizi del comune. Ecco perché si parla già di un aumento della tassazione legato a questa novità, a questo nuovo balzello che è la maggiorazione. La comisura è 30 centesima al metro quadro, quindi per un appartamento medio-grande di 100 metri quadri, per fare un esempio, il contribuente pagherà in aggiunto, oltre alla tassa su rifiuti, 30 euro in più. Mentre cambierà poco, per esempio, per l'ambito territoriale di Rimini, dove c'è già la TIA, cambierà molto per quanto riguarda invece gli altri comuni che sono stati, mi pare, fino al 2012, il regime di Tarso. Dovranno calcolare il tributo non soltanto sulla superficie dell'immobile, ma anche sulla composizione del nucleo familiare. Insomma, se gli aumenti indubbiamente ci saranno, il giudizio del tributarista è positivo su questo che, essendo a tutti gli effetti un tributo, non avrà l'applicazione dell'IVA, come invece è successo alla TIA da parte di molti comuni. È più gravosa, ma tendenzialmente è più equa, perché rispetto ai comuni che sono stati in regime di Tarso, legare il pagamento, oltre che alla superficie, alla composizione del nucleo familiare, è più vicino al rispetto del principio comunitario chi inquina paga. Giornata inaugurale oggi a Rimini Fiera per la venticinquesima edizione di Enada Primavera, la principale manifestazione italiana sull'automatico da divertimento. Un settore finito recentemente nel mirino per le conseguenze sociali di videoslot e giochi con premi in denaro. Ma l'Associazione Nazionale dei Produttori di Macchine per le Attrazioni non ci sta e non vuole passare per il capro espiatorio di un sistema carente. Dopo il saluto del presidente della Fiera Cagnoni che auspica almeno 25.000 visitatori professionali perché un evento di successo oggi fa bene, la conferenza di apertura di Enada diventa una controaccusa sulla percezione distorta che oggi il settore del gioco automatico lamenta rispetto ai dati sulle ludopatie che non vanno sottovalutate ma neanche sovrastimate visto che mancherebbero ancora studi adeguati e contro lo Stato che da una parte mantiene il monopolio del gioco legale compresi gli ingenti gettiti ma dall'altra è assente nel necessario presidio contro l'illegalità in primis ma anche colmando le carenze normative carenze che non possono però essere colmate dagli enti locali lo ribadisce l'onorevole Giorgetti del PDL già sottosegretario alle finanze con delega al gioco rieletto e che al prossimo governo, quale che sia chiede di metterci le mani e la faccia. Ma c'è una percezione distorta perché i numeri che vengono dati rispetto al problema di ludopatia sono largamente sovrastimati quindi in questo momento c'è di fronte alla crisi il fatto che qualcuno possa giocare agli apparecchi di entrattenimento viene giudicato un disvalore lo Stato all'onore deve fare molte cose di fare delle norme che funzionino di fare evidentemente degli interventi che vanno a indebolire quelle che sono le attività sleali nei confronti del settore che va a colpire la criminalità organizzata che a volte cerca di utilizzare il settore per l'attività di riciclaggio insomma deve fare molte cose ma da queste molte cose ha un gettito importante di rientro e ha un modello di riferimento che viene giudicato a livello internazionale come assolutamente positivo. Il gioco è pubblico quindi è un gioco regolato un gioco controllato e sicuramente il gioco controllato lascia meno spiragli a problematiche a problemi di infiltrazioni a problemi di disagi sociali quello che dispiace è sentir dire limitiamo il gioco legale perché fa male o perché ci sono infiltrazioni o altre bisogna colpire sull'illegale bisogna colpire anche tutte queste offerte di gioco online che non sono regolamentate e controllate dallo Stato ma che arrivano in maniera quasi indiscriminata su telefoni su tv su internet è lì che dobbiamo fare maggior prevenzione maggior controllo. Enada quest'anno si svolge in quattro giornate infrasettimanali da oggi a venerdì confermando le scelte dell'anno scorso 400 le aziende che su 40.000 metri quadri espongono tecnologie prodotti e servizi per la filiera del gioco un settore che tiene nonostante la crisi ma con trend in costante cambiamento le scommesse online sono in progresso mentre i giochi più tradizionali perdono appeal i giochi automatici con una raccolta di 38,4 miliardi da gennaio a ottobre 2012 registrano un aumento di 4 miliardi sullo stesso periodo del 2011 in programma Enada anche diversi eventi come tornei di flipper e incontri tematici domattina è anche in programma un convegno sul tema gioco irregolare territorio aspetti amministrativi penali e tributari in tanti ieri sera nella chiesa di Sant'Agostino di Rimini per il quarto appuntamento delle meditazioni quaresimali a proporre una riflessione sulla fede vissuta Monsignor Giancarlo Maria Bregantini arcivescovo di Campobasso Boiano lo ha intervistato per noi Loris Menghi lei ha detto che Dio è perfetto e non solo perché ci dà il tramonto ci dà le belle giornate eccetera ma soprattutto perché perché è gratuito perché è eccedente come dice il Papa nella enciclica cartes in verità usa il tuo aggettivo meraviglioso eccedente è come la brocca d'acqua sotto la fonte la fonte continua e la brocca è piena Dio è così ti riempi in maniera eccedente però ti insegna ci insegna che se tu la vivi così l'eccedenza il cuore tuo si allarga e ti accorgi che l'amore non ti basta mai e sei capace di compiere atti eroici come quello di Alberto Marvelli cioè è come quella di Don Benzi come quella di tante persone che in questa città e in tanti luoghi d'Italia hanno testimoniato la fede con un'eccedenza d'amore incalcolabile e incredibile ecco la fede si basa sulla riconoscenza coerenza sofferenza che cosa significa significa che se c'è questa riconoscenza tu diventi che è capace in maniera coerente di testimoniare anche se la meta è sempre più alta le beatitudini sono sempre intematizzabili dicono per quanto fai non ne potrai mai vivere in piena però intanto ti restano lì come le vette anche se non ci arrivi intanto ce l'hai davanti di conseguenza anche nei momenti del dolore come può essere Gesù sulla croce ti aiuta a uscire dal tuo dolore a guardare il dolore dell'altro a saper perdonare dare senso alla tua vita a dare pienezza e allora se nella prima esperienza di dolore drammatico il primo grido dici Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato l'ultimo attraverso questo itinerario favoloso e anche concretissimo tu arrivi a dire padre nelle tue mani affido il mio spirito come i santi hanno detto morendo ora la fede l'hai vissuta fino all'ultimo minuto la meditazione sarà proposta giovedì alle 14.30 su Icaro TV e alle 21 su Radio Icaro la scorsa settimana Monsignore Lambiasi in occasione della visita pastorale si è recato nella parrocchia di Regina Pacis vi proponiamo un'anticipazione dello speciale sulla visita in onda su Icaro TV tutti i martedì alle 19.45 in replica il venerdì alle 22 e la domenica alle 13.30 era ancora una zona periferica quella di Lago Maggio quando il 15 agosto 1954 il sacerdote milanese Don Pietro Casiraghi veniva inviato dal vescovo Bianchieri per crearvi una nuova parrocchia la chiesa attuale viene approvata nel 1962 la prima pietra posta nel 63 e inaugurata il 15 maggio 1966 da Monsignor Bianchieri qui c'è una comunità cristiana viva che vive la fede questa è la cosa che mi ha colpito di più insomma l'esperienza vissuta anche se faticosa anche se travagliata nel passato però ha portato molte persone a una fede vissuta non così non una fede non ad una fede superficiale nel maggio del 1966 la parrocchia era già costruita come la vedete attualmente il padre di Gallora partito di qui per la Germania e naturalmente io sono seguito nello stesso giorno la sera nello stesso giorno sono venuto a prendere possesso qui di questa comunità parrocchiale siamo arrivati alle nostre notizie di tutto in 100 secondi l'assemblea legislativa dell'Emilia Romagna dato il via libera oggi al referendum per la fusione dei comuni di Savignano e San Mauro il nuovo comune unico del Rubicone conterebbe quasi 30.000 abitanti e nei primi 15 anni riceverebbe contributi straordinari da Stato e Regione per 15 milioni in un controllo specifico tra Borgo Marina la zona universitaria e il porto canale i carabinieri questa mattina a Rimini hanno identificato 45 persone di cui 37 straniere e controllato 7 negozi non sono state riscontrate irregolarità ma l'attenzione resta alta ieri si è tenuto un incontro tra forze dell'ordine associazione Borgo Marina amministrazione comunale Caritas e Papa Giovanni si è discusso anche di come evitare che lo spaccio si diffonda in altre zone della città è stato rintracciato a Bologna il 73enne di Sant'Andrea in Besanigo del quale si erano perse le tracce da alcuni giorni era alla stazione in stato confusionale l'uomo la cui auto era stata ritrovata sul lungomare di Rimini nei giorni scorsi era stato ricercato anche nelle acque del porto canale rubavano capi d'abbigliamento in centri commerciali o negozi di grandi catene attraverso borse schermate di alluminio poi nel fine settimana li affidavano ad alcuni corrieri per fargli arrivare ai loro paesi di origine dove venivano riettichettati e venduti in altre boutique i quattro due rumeni una rumene e un albanese sono stati scoperti arrestati dai carabinieri ieri nel Pesarese in mattinata avevano colpito a Misano domani alle 21 in sala Isotta al teatro corte di Coriano ci sarà un incontro pubblico tra amministrazione e cittadini per un confronto sulla riorganizzazione della macchina comunale prima semifinale questa sera alle 21.15 su Icaro TV per la campanella il gioco delle scuole in tv di fronte due licei di Rimini lo scientifico artistico Serpieri e il liceo di scienza umana e comunicazione maestre pie ma per saperne di più ci colleghiamo con Francesco Cesarini e Francesca Magnoni grazie sì pochissimi minuti all'inizio della campanella puntata speciale perché siamo alle semifinali esatto la prima semifinale quella tra il liceo scientifico artistico Serpieri contro il liceo classico Dante Alighieri che è un po' una sorpresa di questa edizione insomma è arrivata fino alla semifinale una puntata che si preannuncia molto interessante e come al solito c'è grande curiosità per quanto riguarda la prova di arte e spettacolo ah quest'anno per questa puntata ci siamo dati al cinema quello proprio tradizionale cinema scoop quello è lo proprio andiamo dove a via col vento caspita quindi ci sarà Clark Gable eh sì bene 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 poi naturalmente avremo la prova di attualità la cabina vi posso già anticipare che siamo sull'attualità per quanto riguarda la cabina e poi tante altre sorprese naturalmente ci sarà anche l'educazione alimentare certo e poi naturalmente la prova di cucina con le seppi e con i piselli caspita pesanti ma con la campanella però si digerisce tutto digerite me e Francesca e Otello che è lì che si sta preparando Otello 9 e 15 21 e 15 in diretta su Icaro TV a Fra Pochissimo suona la campanella e ci vediamo tra poco Noi parliamo anche di calcio infatti il San Marino esce a mani vuote dal posticipo televisivo in casa del Carpi e la prima sconfitta del girone di ritorno per i biancazzurri di Acori a decidere il match e la rete di Concas al diciottesimo della ripresa una settimana intensa per i titani che giovedì all'Olimpico di Serravalle dovranno scendere nuovamente in campo per affrontare l'Albinoleffe per il recupero della ventiquattresima giornata Adesso la box sabato prossimo 16 marzo alle 20 e 30 al Palasport Flaminio di Rimini ospiterà il diciottesimo Memorial Cavalier Oreste Biagini organizzato dalla Rimini Box Biagini col patrocinio del Comune di Rimini 12 gli incontri previsti ci presenta la serata l'organizzatore Alberto Biagini Il diciottesimo Memorial Cavalier Biagini Oreste quest'anno purtroppo per motivi finanziari i professionisti non ce l'abbiamo fatta a metterli ma si allenano tutte le sere facciamo dieci match di dilettanti 12 sono per dire la verità due debutanti gli altri sono un po' i quattro big sono Chiacchiarella Amor Ferif Zuppo e Nicolò Para Nicolò Para e gli altri sono tutti ragazzi che faranno il suo match prendo gente da Pescara da Venezia un po' un po' miste e qui dalla Romagna qui da del nostro secondario insomma Imola Bologna così quello che si può accompagnare con i nostri stessi match stessi valori e via insomma quest'anno è stata un po' dura perché la crisi c'è però lo facciamo lo stesso noi andiamo avanti è una bella serata io spero che venga il pubblico cosa e divertimento non mancherà insomma l'agonismo non mancherà noi siamo arrivati in conclusione vi lascio al meteo buon proseguimento di serata grazie a tutti Grazie a tutti.